Liberi.tv, spazio certi diritti. Quest'oggi c'è un'intervista che ho deciso di realizzare, io sono Riccardo Cristiano, in mia compagnia abbiamo Letizia che ci racconterà il suo percorso di transizione verso il suo essere. Innanzitutto ti do il benvenuto Letizia, vogliamo spiegare agli amici le ragioni che ti hanno spinto a questo percorso di transizione e quanti tipi di transizione esistono. Beh innanzitutto ringrazio voi per avermi invitata a fare questa intervista, le ragioni che mi hanno spinta a fare la transizione semplicemente è sempre stata la mia vita, io da quando sono nata praticamente che ho sentito di essere Letizia e non Alfredo, quindi anche chiedermi quando è che ho iniziato a sentirmi Letizia, semplicemente non c'è stato un momento in cui io mi sono sentita tale, io mi sono sempre sentita sin dalla nascita, quando ero dalla nascita, quando ne ho memoria, proprio c'è il disagio nei confronti del mio corpo, pure la consapevolezza di sapere che c'era qualcosa che non andava, l'ho sempre saputa, l'ho sempre avuta. È stato poi negli anni dell'adolescenza, quando poi ho visto il mio corpo andare verso una direzione, mentre la mia mente andava in un'altra, che allora ho capito che intraprendere un percorso di transizione era la cosa giusta da fare. Quindi diciamo quando c'è stato una sorta di confronto anche con l'ambiente esterno, ti è capitato di non sentirti a tuo agio nella situazione, nella condizione in cui vivevi, ma come sei arrivata alla concezione che avresti deciso di affrontare questo percorso e soprattutto chi ti ha dato magari l'input per sentirti, diciamo così, come sei? Allora, vi racconto la storia come è andata. Avevo nove anni, so che sembra un po' assurda la storia, avevo nove anni e sono sempre stata una grandissima appassionata di SSI. Ah, sì, ok. In una puntata c'era praticamente un uomo transessuale, cioè che dal sesso femminile è transizionato quello maschile. Avevo nove anni e ho visto praticamente un F2M, in termini clinico una donna che diventa uomo è un F2M. C'era questo personaggio in questa puntata e allora io ho chiesto a mia sorella, mi pare che in quella giornata stava vedendo la puntata con me, ma realmente esistono delle operazioni che riescono a far cambiare sesso a una persona? Mi ha risposto di sì ed è stato in quel momento, ma l'ho detta molto così, alla leggera, un giorno farò anche un'operazione del genere. Cioè è stato un momento, cioè raccontarlo sembra anche un po' ironico, guardi anche un po' surreale come cosa, ma in effetti è successo così, nonostante comunque anche già da prima avessi, cioè sapessi che dentro di me c'era effettivamente una femminuccia anziché un maschietto. Comunque sì, poi confrontandomi anche con altri ragazzi che avessero della mia età, io notavo che in me c'era un qualcosa che effettivamente era discordante con quello che in realtà sentivo di essere dentro. Un'altra domanda, visto che tu parlavi di tua sorella, tua sorella quindi quando ha saputo questa tua situazione, questa tua volontà, come l'ha presa? Oppure siccome eravate magari piccoli, la cosa è scivolata via così? No, quando ero, vabbè, durante la puntata di SSA non è che ho detto ad alta voce di voler cambiare sesso, poi è stato intorno ai 16-17 anni che siccome non ce la facevo più a continuare a vivere, perché c'è come vivere in un corpo che non senti il tuo, è come se tu vedessi scivolare via la tua vita dalle mani senza poter fare nulla per viverla ed è una sensazione che io non auguro a nessuno. Quindi mi sono fatta coraggio e ho detto tutto a mia sorella. Non l'ha presa bene, però io sono convinta di una cosa, che quando i genitori o comunque dei componenti familiari prendono male una reazione del genere perché fondamentalmente vogliono, amano moltissimo il proprio fratello o la propria sorella. Quindi il voler persuadere i propri famigli, comunque la persona a non voler cambiare sesso è un meccanismo di difesa, vuole praticamente proteggerla dalla cattiveria e dalla giungla che c'è là fuori. In effetti ha ragione. Io e mia sorella ho parlato nel mio disagio di quello che comporta comunque avere una disforia di genere. Quando ne parlo con lei è una cosa che piangemo insieme, lei piange e io piango con lei, ci abbracciamo. Una frase che ci siamo dette, leggendo, è che godiamoci l'oggi, domani si vedrà. Nella mia famiglia sono le persone che io amo di più al mondo e loro mi amano. Spero che col tempo possano riuscire anche un po', hanno capito che io effettivamente ho questo disagio, spero che anche loro possano riuscire ad affrontare, mettersi anche loro una corazza per affrontare la giungla che ci aspetta fuori. Io credo che comunque ti darà anche forse ancora di più forza il sapere che non sei sola in questa tua battaglia, ma nemmeno chiamiamola battaglia, in questa tua scoperta forse dell'essere. Perché credo che alla fine l'essere gay o lesbico è difficile, ma lo è sicuramente ancora di più l'essere transgender perché devi vivere quotidianamente con un cambiamento che fai tutti i giorni. Addirittura c'è la prova della vita reale. Adesso io non conosco bene. Viene definito real test che può essere eseguito o prima della terapia ormonale o durante. Io personalmente vivo diciamo in una modalità stealth. Al momento io sto vivendo una vita completamente al maschile o quanto meno femminile possibile perché in fin dei conti comunque la mia personalità, il mio carattere, il mio modo di pormi è completamente femminile. Quindi semplicemente io continuo a vestirmi da ragazzo, nonostante comunque la mia idea ce l'ho ben precisa. Un domani non vedo l'ora veramente di riuscire a portare all'esterno anche la mia, di far vedere anche all'esterno la mia femminilità attraverso i vestiti. Forse anche, sicuramente, attraverso anche l'estetica. Il real life test è un test molto importante, anche per le persone. In genere per una MTF è molto più difficile perché appunto un uomo che si veste da donna ha comunque una connotazione molto più negativa rispetto a quello che invece è una donna che si veste da uomo. Infatti molti F2M spesso, nonostante si vestono da uomini, la gente comunque non li ha dita come F2M, cioè come persone transessuali. Perché appunto una donna che si veste da uomo in questa società può camminare tranquilla, tra virgolette, mentre un uomo che si mette una gonna è già una cosa ben diversa. Diciamo che una donna che si veste da uomo viene considerata il maschiaccio della situazione mentre un uomo che si mette un indumento femminile ma passi anche, non lo so, un filo di lucida labbra o un rossetto credo che venga definito nemmeno trans, venga sicuramente definito nella parola più spreggevole che c'è in questo momento che è frocio o qualche termine ancora più dispregiativo. Perché probabilmente la società non è ancora pronta ma non è nemmeno così perché poi forse l'Italia non ha ancora visto fino in fondo quello che è la società della porta accanto perché in altri paesi sicuramente non si fa più nemmeno caso alla persona come va vestita in strada, invece si crede che forse nel sud o nel Roma ci sia meno tolleranza, anche se la parola tolleranza è una parola bruttissima perché si parla di sopportazione. Io ti voglio chiedere una cosa, tu lavori giusto, come hai trovato difficoltà sul luogo di lavoro tra colleghi, datori di lavoro? Perché penso che questo sia anche un aspetto fondamentale della vita di una persona transgender, sia essa M2F o F2M. Sì, io lavoro però tuttavia non ho incontrato delle discriminazioni sul lavoro. Ribadisco comunque il fatto che io al momento mi pongo al maschile quindi al limite chi mi vede pensa sicuramente a un ragazzo gay. Tuttavia non ho avuto dei problemi sul lavoro, anzi l'ho detto da alcuni miei colleghi, ovviamente solo ai più fidati, comunque quelli con cui ho installato un certo rapporto, glielo ho confidato e non mi hanno dato dei problemi. I miei mediatori di lavoro ovviamente non sanno comunque di questo mio percorso, vedono questa, la mia persona, comunque vedono Alfredo, secondo me sicuramente penseranno che sono gay ma non mi hanno mai dato dei problemi. No, quindi fortunatamente ancora oggi no, forse facendo quest'intervista fra due anni. Spero comunque di dire la stessa cosa. Invece non ti sono mai capitati dei casi di omotransfobia o di aggressione, non lo so, vissute personalmente o hai assistito? Beh, allora, transfobia, sempre per il discorso, no. Omofobia, di assistere a degli episodi di omofobia e di riceverli? Beh, quello assolutamente sì. Ho ricevuto comunque del bullismo da parte dei miei compagni di classe quando ero nelle scuole medie e superiori. Ovviamente mi aditavano come frocio, come richiore, comunque sempre questi termini. Ovviamente io ci stavo male e soprattutto ci stavo male perché era in una fase della mia vita, era in quella fase in cui io sapevo che dentro di me c'era qualcosa, però allo stesso tempo non l'avevo razionalizzata. Quindi il sentirmi diversa rispetto agli altri e soprattutto non avere nessuno con cui parlare di questo mio problema perché all'epoca non... in genere nelle scuole ci dovrebbe essere uno psicologo come supporto ai ragazzi, nella mia scuola non c'era. Secondo me questa qui è una cosa che le scuole dovrebbero anche un po', i direttori delle scuole dovrebbero anche rivalutare perché un supporto psicologico per i ragazzi è fondamentale, soprattutto nelle scuole medie. Non avendo quindi un supporto, non avendo un amico su cui confidarmi al 100% di quello che era la mia situazione e di quello che avveniva, ho represso tutto dentro, tutte le umiliazioni le ho tenute dentro, per poi comunque sfogarle adesso con la mia dottoressa, con la mia psicologa. Abbiamo fatto dei grossi passi in avanti. Quindi quello che dicevi tu adesso, qualcosa si può fare, cioè a livello sia di politica che di società, di scuola. Tu parlavi di psicologa o psicologo all'interno di una scuola, ma potremmo anche pensare a uno psicologo e psicologa all'interno di un luogo di lavoro, all'interno anche di probabilmente comuni. Perché ricordo il caso di quel ragazzo che è stato aggredito a Reggio. Il problema era che molte volte gli operatori sociosanitari che hanno a che fare con persone gay, lesbiche o anche transgender, non sanno come comportarsi perché sono i primi a non essere informati. E quindi probabilmente ci dovrebbe essere una maggiore conoscenza da parte delle strutture pubbliche e in questo caso dalle scuole. Perché tu sei stata, diciamo, aggredita probabilmente perché non hai avuto né da una parte degli insegnanti che ti hanno supportata e ti hanno, magari non lo so, protetta. Perché la prima cosa che dovrebbe fare la scuola è la protezione, proteggere lo studente e la studente che insomma vanno lì per insegnare. Ma soprattutto non hai avuto i mezzi per capire te stessa, per riuscire a comprendere quello che è la tua vera natura e che non c'è niente di sbagliato nell'essere transgender o gay o lesbica. Esattamente. Diciamo che alcune volte pensare comunque di avere uno psicologo, una psicologa, diciamoci la verità, forse è un po' un'utopia anche perché ultimamente stanno, ad esempio stamattina ho sentito che hanno eliminato l'insegnamento di scuola dell'arte alle scuole. Quindi avere uno psicologo, un supporto psicologico sembra quasi un'utopia. Tuttavia, secondo me il problema è che spesso non sappiamo utilizzare nemmeno quel poco che abbiamo. Perché io non avevo delle risposte, non sapevo come ricercarle, le ricevevo quando qualcuno ne parlava così, a caso. Se io mi sento la mia professoressa di scienze che dice l'omosessualità è dovuta perché l'omosessuale ha il 60% di ormoni femminili e il 40% di ormoni maschili, innanzitutto mette una confusione nella persona che comunque o è omosessuale o è transessuale, ce ne confronti di quella persona che ascolta, è un insegnante. Lei è riuscita a scoprire qualcosa che gli scienziati ancora non hanno scoperto? Guarda, te ne posso raccontare mille. Ad esempio, un'altra mia professoressa sosteneva che l'omosessualità fosse dovuta al fatto che le donne siano troppo imposte nella società. Cioè, secondo me, quando un insegnante non si è comunque documentato tramite delle cose, ma non riguardo l'omosessualità o la transessualità in generale, secondo me è meglio non parlarne del tutto, anziché dare delle informazioni sbagliate. Perché la persona che le ascolta, è che magari c'è anche in quella situazione. Si fa, perdonatemi la parola, delle pippie assurde. Pensa di poter guarire con delle terapie ormonali quando in realtà così non è. Quindi, secondo me, gli insegnanti, io tra l'altro ho scritto pure un piccolo libricino, ma più che altro per spogo personale, dove anche parlavo di questa situazione. Secondo me gli insegnanti dovrebbero sapere il lavoro che fanno. Perché comunque l'insegnante non è semplicemente quello di insegnare a fare le tabelline, a mettere la E, fare una E, non fare una L troppo lunga. Dovrebbero essere dei maestri di vita, a rispettare gli altri e non a dare comunque le loro opinioni, tra l'altro anche discutibili, come in questo caso. Anche perché comunque i ragazzi passano molto tempo nelle scuole e, come dire, si sostituiscono in certi casi anche ai genitori. Quindi se non sono loro a dare una guida, ma la guida dovrebbe essere senza dare troppo dei giudizi alle volte infondati, come nel caso della tua insegnante che dice che è una questione ormonale. Fosse una questione ormonale, a questo la scienza avrebbe risolto sicuramente qualunque problema. Senti, io volevo chiederti un'altra cosa, visto che spesso sentiamo che c'è un solo tipo di famiglia, quella formata da un uomo e da una donna. Logicamente parliamo di quelle famiglie cosiddette naturali o per così dire famiglie tradizionali con figli al seguito. Pensi mai a come invece sarà la tua, di famiglia? Hai una posizione specifica sull'omogenitorialità? Allora, un discorso da fare. Prima vorrei parlare non della famiglia che avrò domani, ma della famiglia che ho oggi. Io ho una famiglia fantastica, ho una famiglia tradizionale, di cui abbiamo sempre messo di fronte i valori, l'amore comunque che proviamo l'uno per l'altro e sinceramente per questo mi sento una persona molto, ma molto fortunata. Per quanto riguarda la mia futura famiglia, io essendo una donna, non sono una donna biologica, sono comunque una transessuale, tuttavia la mia sessualità è eterosessuale, cioè ho prova attrazione nei confronti comunque dei ragazzi. Io comunque la mia famiglia sarebbe quella tradizionale, mi piacerebbe diventare madre con l'adozione ovviamente, perché lo trovo anche molto bello come gesto. Tra l'altro io ancora oggi sto pensando ad adottare un bambino a distanza, anche perché le pratiche sono molto più semplici rispetto all'adozione di quella, quindi adottarlo al giorno d'oggi, visto che potrei farlo, perché no esattamente. Per quanto riguarda l'omogeneo, come si dice la parola? Omogeneo, vabbè quella cosa lì, non mi piace dire quella cosa lì, perché... allora ho detto quella cosa lì perché non sapevo dire la parola, diciamoci la verità. Cioè, è anche una parola coniata apposta, omogenitorialità, però in realtà... Omogenitorialità, oh ce l'ho fatta! Ci eserciteremo a dire questa parola, ma soprattutto ci eserciteremo a essere una famiglia a questo punto, la famiglia che cos'è, puoi spiegarcelo tu tranquillamente, ce lo stai spiegando adesso dell'amore. Esattamente, la famiglia, secondo me, se io penso la parola famiglia, penso amore, proteggersi l'uno con l'altro, con le unghie e con i denti, quindi prima di pensare a famiglia eterosessuale, famiglia omosessuale, famiglia tradizionale, chiediamoci cosa c'è all'interno di questa famiglia, se ci sono valori, se c'è amore soprattutto, perché alcune volte mi viene da pensare veramente ai matrimoni che venivano fatti 50-60 anni fa. Beh, ok, erano dei matrimoni tradizionali, erano dei matrimoni duraturi, ma cosa c'era all'interno di questi matrimoni? Perché alcune volte erano dei matrimoni combinati, soprattutto qui in Calabria, quindi certamente quello che ne scaturivano, forse c'è la benevolenza, ma certamente non c'era quell'amore autentico che poche persone hanno avuto la fortuna di avere. Ad esempio la mia famiglia, mia madre e mio padre hanno avuto la fortuna di trovarsi e di innamorarsi, non è stato un matrimonio combinato. Capita però, eh? Ovviamente non dico che ora tutti i matrimoni che hanno fatto fino adesso sono dei matrimoni senza amore, sicuramente ci sono stati dei... ci sono, magari sono anche più rispetto a quelli combinati. Però, cioè io non penso veramente che le generazioni passate comunque che hanno avuto dei matrimoni, la cosiddetta famiglia tradizionale, la famiglia tradizionale era comunque un matrimonio veramente dettato dal sentimento. Spesso c'erano delle convenzioni dietro. Pensa per esempio anche alla questione che comunque la donna una volta stava in casa non aveva un lavoro, quindi era costretta a badare i figli e a stare con un marito che la manteneva. Esattamente. Quindi le cose sono anche cambiate dall'epoca. La donna è diventata più indipendente, l'uomo ascolta di più probabilmente. Mentre prima era il padrone indiscusso della casa. Questo è vero. E poi comunque alla fine tu dicevi che sei fortunato ad avere una famiglia perché comunque sia ti hanno dato amore e tu vuoi bene a loro indipendentemente da... se adesso stai affrontando un percorso di transizione e sei Letizia. Magari i tuoi genitori ti conoscevano come Alberto però continueranno sempre ad amarti. Magari hai cambiato la loro forma fisica però se chiudono gli occhi vedono sempre comunque la figlia che hanno nel cuore penso. Sì, spero possa avvenire così sinceramente perché al giorno d'oggi la situazione è molto delicata. Ancora non hanno... sanno che dentro di me c'è una sofferenza però ancora non hanno metabolizzato il fatto che un domani possa diventare Letizia. loro tuttora oggi perché siccome conoscono anche la mia psicologa che mi ha presa in cura mi ha preso in terapia, diciamoci la verità. Cura sembra una brutta parola. La conoscono e loro sono ancora... sono ancorati comunque alla speranza che io possa tornare indietro perché in effetti ci sono stati dei casi di alcune persone che partite con l'idea di voler cambiare sesso una volta andando a toccare con mano quelli che sono i reali aspetti di una transizione perché non è assolutamente una cosa facile perché oltre agli stress comunque con una persona viva quotidianamente ma è da aggiungere gli ospedali che devi andare a frequentare che comunque non sono le visite, gli esami, sono comunque una... i viaggi da fare perché spesso le strutture che si occupano di queste cose non sono qui nel territorio. Quindi tra il dire il fare c'è il mezzo del mare si dice. Nella transizione è esattamente questo. Quando una persona riesce ad attraversare questo mare significa che veramente la sua sofferenza tale è che non c'è nulla che la possa fermare. Bene. A questo punto Letizia ti chiedo una cosa. Quale personaggio pubblico ti trasmette fiducia e a questo punto intendo che tipo di fiducia? Una fiducia che ti permette di pensare positivamente che il mondo cambierà, che le cose stanno cambiando sia in questa realtà che quella calabrese ma nella realtà nazionale. Non so se la conoscete, si chiama Lizzy Velasquez. È praticamente la... una delle tre persone in mondo che ha una sindrome che non le permette di assimilare il cibo. Lei ha lo 0% di grasso corporeo ed è praticamente una ragazza magrissima. Ha comunque dei problemi dovuti a questa sua magrezza. Se la cercate su internet forse comparirà anche in un video di YouTube come la donna più brutta del mondo. Lei... ho visto praticamente una sua... una sua intervista. Più che altro un'intervista era un monologo perché lei è diventata una motivatrice. Ha scritto anche dei libri molto belli. E praticamente raccolta la sua storia. Racconta... più che raccontare dice cos'è che effettivamente ci definisce. Ci definisce quello che dice la gente. La stessa gente... comunque parla dal punto di vista di Lizzy. La stessa gente che mi ha consigliato vedendo il mio video su YouTube di mettermi una pistola alla tempia e di spararmi. Oppure le persone che mi... che mi supportano ogni giorno. È una frase molto bella che mi rimarrà per sempre impressa quando la gente... il giudizio cattivo della gente. Prendetelo e trasformatelo in un gradino che voi dovete superare. Perché superando le cattiverie, le ingiustizie, è lì che arriverete alla realizzazione di voi stessi. Io la... mi piace moltissimo come... come ragazza. No, è bellissima questa. Io ti dico la verità ma non la conoscevo e sono sicuro che attraverso questo video la conosceranno in molti. E poi comunque parte tutto da quello che tu hai detto all'inizio. Io credo che sia un amore, una voglia di volersi bene e di non abbattersi alle difficoltà. Io credo che tu dovrai andare fino in fondo come Letizia ma lo faranno sicuramente tante altre persone nella tua stessa situazione. Perché se uno inizia a volersi bene, a capire quello che vuole veramente gli altri, lo capiranno. Perché se non sei tu la prima persona a volerlo, come fanno poi gli altri a comprendere quello che è il tuo bisogno? Quindi dobbiamo farlo capire agli altri quello che è importante, a costo anche di sacrificio. E io credo che questo tuo percorso significa proprio questo, un sacrificio continuo con i tuoi genitori, con i tuoi amici, con le persone che magari ti conosceranno pian piano e vedranno nel tuo percorso di transizione sul luogo di lavoro. Ma non devi abbatterti perché se ce la fa questa ragazza di cui adesso io non ricordo il nome Lizzi, è un po' come l'uomo genitorialità che non mi ricordavo io. Siamo pari, esatto. Penso che ce la può fare veramente chiunque. A questo punto la nostra intervista quasi volge al termine, però devo chiederti di dare un consiglio a chi sta affrontando proprio il tuo stesso percorso. Cosa deve fare per combattere? Perché se fai fondamentalmente il consiglio lo hai dato con le tue risposte. Cari ragazzi, cari, cari ragazze, cosa posso dire? Vi non mollate mai perché i vostri sogni sono, io parlo comunque sempre per il mio caso personale, il mio sogno è diventare Lizzi fuori, la cosa che mi ha permesso di vivere tutti questi anni. C'è molta sofferenza in questo percorso. Una sofferenza non solo vostra, si va a aggiungere anche della persona, di quelle che vi stanno intorno, ma voi non mollate mai. Anzi, cercate di andare sempre in fondo a quello che fate, cercate di essere sicuri e sicure di voi stessi, di voi stesse, perché comunque un messaggio è rivolto sia agli F2M che alle MTF e soprattutto non abbiate paura di vivere. Io ti ringrazio Lizzi per i consigli che ci hai dato adesso, ma per la tua testimonianza. Spero di rivederti presto, a questo punto possiamo seguirlo questo percorso, magari chissà, ci vedremo fra un pochino e ci racconterei come sta procedendo la tua vita, se ci sono delle notizie positive della tua transizione e chissà, magari qualche persona vedendo questo video vorrà saperne di più, magari ti vorrà contattare o vorrà contattare noi e chissà, avrai cambiato anche tu la vita di una persona che ci sta ascoltando. Grazie tanto a Lizzi e veramente del tuo contributo. Questo, il cambiare la vita di qualcuno, magari anche con questa intervista, non mi fa altro che piacere. Vi ringrazio ancora adesso comunque per avermi invitata e grazie a te Riccardo. Grazie Letizia.